E ora parliamo di istruzione ma anche alta formazione, ITS della Sicilia ha avviato ad Alcamo l'orientamento in ingresso. Occhi puntati chiaramente sui nostri giovani, presente ma soprattutto futuro e protagonisti del nostro domani, eccellenze nell'apprendimento. Ci spiegano tutto Enzo Munna, presidente dell'ITS Emporium del Golfo, Franco Pignataro, presidente invece dell'ITS, Steve Jobs di Caltagirone, presente tra l'altro ad Alcamo, ed Enza Ammione, direttore dell'ITS Emporium del Golfo. Le interviste. Noi dobbiamo sposare le esigenze degli alunni che poi diventeranno corsisti ma anche ovviamente delle aziende. Le aziende vogliono persone qualificate, tecnici da mettere direttamente nel ciclo produttivo. Alcuni vogliono andare all'università ma ancora non hanno le idee chiare di quali percorsi universitari frequentare. Gli istituti tecnici o tecnologici superiori, academy, danno questa opportunità di poter postergare la scelta dell'università ma anche possono successivamente entrare direttamente nel mondo del lavoro all'interno delle aziende dove i nostri ITS ovviamente fanno degli accordi con delle aziende per fare periodi stagio e tirocinio. Il nostro obiettivo è reclutare gli studenti nel settore dell'agroalimentare per il prossimo biennio 2023-2025 per percorsi di due anni che possono essere ovviamente di pregio, di spessore, professionalizzanti che sicuramente offrono un servizio non solo al territorio ma ovviamente alla comunità lavorativa in senso largo. Spesso negli incontri che abbiamo con gli studenti vediamo che il tema del lavoro è un tema che verrà, un tema lontano rispetto all'attualità. L'istruzione tecnica superiore academy invece offre oggi ai giovani la possibilità entro due anni di avere un posto di lavoro certo con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un lavoro qualificato all'interno delle aziende perché l'Italia oggi col PNRR sta facendo una grossa scommessa economica ma se noi non qualifichiamo i nostri giovani, non li avviciniamo direttamente al mondo del lavoro questa scommessa rischia di essere evanescente. I nostri studenti se vogliono andare fuori ovviamente hanno l'opportunità per il curriculum di studi che presentano ma avranno qui l'opportunità di ridurre la crisi demografica e di riempire di ricchezza creativa, giovanile e anche ovviamente familiare restando in Sicilia. Poter avere più opportunità di scelta significa garanzia di successo di lavoro, di futuro e comunque anche di successo personale. Noi in particolare offriamo con l'ITS Emporium del Golfo Academy la possibilità di seguire un corso biennale con stage presso le aziende del settore dell'agroalimentare e vorrei sottolinearlo più volte alla parola Academy perché significa che non è una scuola qualunque, non facciamo italiano storia e geografia, noi trattiamo le materie specialistiche del settore dell'agroalimentare, dell'agricoltura 4.0, dei processi di miglioramento dell'azienda sia dal punto di vista della fornitura, della trasformazione ma anche del marketing. E poi vorrei sottolineare agroalimentare perché l'agroalimentare è per Trapani e per tutto il nostro, per la Sicilia occidentale, un punto di eccellenza. Noi stiamo rischiando di diventare tutti mangiatori di cibi sintetici, non possiamo rischiare veramente di mangiare polvere di formiche, è meglio il grano. Abbiamo stretti contatti con tutte le associazioni di categoria e ora anche con Sicindustria perché noi siamo certi che in ogni percorso, in ogni azienda, tra il capo e gli operai, è necessario che ci siano queste figure di middle management che sono l'interfaccia del capo e del lavoratore. Sono quelli che curano e analizzano i processi di produzione, sono quelli che enfatizzano i miglioramenti e che propongono all'azienda gli acquisti.